E' stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio il 43enne extracomunitario irregolare sul territorio nazionale. L'uomo era già noto alle forze di polizia in quanto la scorsa estate era già stato tratto in arresto dalla squadra mobile di Pesaro che lo aveva sorpreso alla stazione ferroviaria in possesso di due ovuli di eroina contenenti circa 11 grammi dello stupefacente. Per il tipo di reato commesso la legge nel caso specifico non prevede la custodia cautelare in carcere. Di conseguenza era stata applicata la misura del divieto di dimora nella provincia di Pesaro Urbino e l'uomo era stato rimesso in libertà. Nel pomeriggio del 15 aprile scorso gli investigatori hanno notato nuovamente il 43enne nei pressi della stazione di Pesaro. L'uomo stava violando il divieto di dimora e gli agenti, sospettando che anche in quella circostanza potesse avere con sé dello stupefacente, lo hanno sottoposto ad un controllo. Visto lo stato di grande agitazione del 43enne, i poliziotti hanno deciso di approfondire le verifiche, accompagnandolo presso il pronto soccorso per degli esami diagnostici, temendo che avesse ingerito degli ovuli. In effetti gli esami medici hanno evidenziato la presenza di alcuni corpi estranei nello stomaco dell'uomo, che a quel punto ha ammesso di aver ingerito tre ovuli contenenti circa 15 grammi di eroina. Di conseguenza il 43enne è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Ieri mattina l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto ed ha emesso a carico dell'uomo un nuovo divieto di dimora per le regioni Marche ed Emilia-Romagna.